La vastità del territorio della provincia di Messina è funzionale alle alleanze tra gruppi criminali di Cosa Nostra Palermitana e Catanese, oltre a quelli dell'Andrangheta. Questo è il dato preoccupante che emerge dal focus semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, e che conferma ciò che già è stato annunciato in passato. Sui Nebro dice il mandamento mafioso di San Mauro Castelverde, nella fascia tirrenica la cosiddetta mafia barcellonese, simile a Cosa Nostra Palermitana, seppur sarebbe emerso che i gruppi tirrenici dei barcellonesi, Mazzarroti, Milazzesi e Di Terme Vigliatore, intrattengano rapporti anche con gruppi catanesi che avrebbero individuato referenti in provincia. Informazioni che trovano conferma nelle indagini patrimoniali condotte dalla DIA di Messina e di Catania. È stato infatti confiscato a maggio dello scorso anno il patrimonio di oltre 28 milioni di euro ad un imprenditore che operava nel Movimento Terra, nella produzione di conglovenato cementizio e nelle energie rinnovabili, ritenuto collante tra i barcellonesi e i Santa Paola. Ci sono poi i movimenti autonomi nel territorio di Tortorici, dei gruppi dei batanesi e dei tortoriciani, che avrebbero puntato l'attenzione ai terreni e all'economia del Parco dei Nebrodi. Con loro ci sono anche quelli che vengono chiamati brontesi, un dato emerso dopo un sequestro di oltre un milione di euro effettuato dalla DIA di Catania. I gruppi catanesi incidono anche nella fascia ionica nel settore delle estorsioni, ad imprese commerciali e turistiche dalla periferia sud di Messina al confine con la provincia di Catania. I riferimenti sarebbero le famiglie Santa Paola e il Colano e la Cappello Laudani. Con specifiche ripartizioni, Messina si caratterizza, secondo la relazione semestrale della DIA, per una divisione in quartiere e aree della città che è imperversa tra gli altri nel gioco d'azzardo e nelle scommesse clandestine. Da sud a nord a Camaro e Mangialupi ci sarebbero gli Spartai, le famiglie di Giostra, poi Ventura e il gruppo Mangialupi.